e sono tutti ragazzi sono ttuboy11 oggi ragazzi sono qua tornati in un nuovo video allora raga questo video è il primo episodio sponsorizzazioni allora raga il primo da sponsorizzare è samu balza 1477 allora ho fatto alcune live cosa una live di 8 ore mamma mia ho fatto anche il trailer del canale diciamo per ora sta facendo clash royale vlog voglio vedere la intro vediamo bella come sigla raga iscrivetevi a samu balza 1477 e passiamo al prossimo canale ora siamo a yonao official nuova intro raga anche questa bella raga iscrivetevi e lasciate un bel like io voglio vedere tipo video su geometri dash ovviamente non tutto raga perchè devo sponsorizzare altri canali ovviamente hai ragione bomber hai ragione hai ragione uno sclero lo so lo so anche lui nel primo livello vabbè raga iscrivetevi a yonao official e passiamo al prossimo canale ok raga un altro da sponsorizzare è darimo e master darimo e master raga iscrivetevi se volete e poi ho fatto lo spacchettamento mi pare che ha trovato il mastino lavico nel boule leggendario che fortuna bomber anche io l'ho trovato e ho trovato la principessa dentro nel boule leggendario boscaiolo raga è boscaiolo sapete è fortissimo il boscaiolo perchè cioè col pc è velocissimo fa un botto di danni e raga vabbè se volete iscrivervi in questo canale iscrivetevi ok passiamo al prossimo canale raga comunque vi faccio i complimenti che hai lo sfondo dei domatori dei cinghiali questo qua raga troppo troppo togo ok ha fatto geometri dash fifa carte che desidero vediamo no che ho fatto lascio un bel like che cos'è nauseazione golemi di fuoco io cioè io vorrei che aggiungessero il gigante lavico lavico gigante o qualcosa del genere raga va bene raga questo si chiama politica di kiss real e iscrivetevi se volete passiamo al prossimo canale comunque raga vi volevo dire che io ho scritto nei bigliettini cosa e chi dovevo sponsorizzare e io già sono al secondo bigliettino e in tutto ne devo sponsorizzare 13 mi pare si uno due si si 13 raga e sicuramente gli episodi su sponsorizzazioni raga saranno qualche 3 o 2 e basta ma comunque raga procediamo giocare 88 un canale diciamo che può interessare qua ci sono i top 10 lottatori forse smackdown gli animali più belli del mondo voglio vedere il top 10 lottatori più forti della dubb da qui io che mi seguo dubb da qui pronunciato malissimo però va bene va bene kane a decimo posto big show insomma Kevin Owens va bene ci può stare si dinambro si è forte dinambro è forte raga è forte ok raga scusate un attimino allora quinto posto vediamo intanto dura poco questo video ok Roman Reigns io lo mettevo al terzo posto poi non lo so 7 insomma vediamo under john john non lo immaginavo secondo under sicuro è il primo brock lesner perché brock raga è uno dei più forti a mio parere ecco qua raga vabbè passiamo al prossimo canale raga iscrivetevi ok raga l'ultimo che devo sponsorizzare in questo video è remix music necessario raga è un mio amico mi ha chiesto di sponsorizzarlo e e niente raga questo remix è figo passate nel suo canale iscrivetevi fate quello che volete poi ha fatto anche il terzo ha fatto il primo remix che ancora non ho sentito vediamo raga wow cioè il primo video 10 mi piace e 46 views wow 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 bello ok perfetto raga spero che il video vi sia piaciuto questo era il primo episodio sponsorizzazioni se vi è piaciuto lasciate un bel like almeno raggiungiamo quasi 10 mi piace raga e e niente raga e niente raga io scrivo scriverò nel titolo e guardate tutto il video perché raga se non vedete che io vi sponsorizzo il vostro canale e dite perché non mi hai sponsorizzato sono stato il primo che ti ho chiesto di sponsorizzarmi e così via quindi vi consiglio di vederlo tutto spero che il video sia piaciuto lasciate quasi diciamo 10 mi piace per il prossimo video bello grazie a tutti